ciao a tutti e bentrovati nel mio canale fantasticamente hinge dove oggi arricchiremo la playlist del corso google fogli parlando di un argomento molto utile ovvero dei riempimenti automatici ma perché è così utile perché il riempimento serve per popolare gli intervalli di celle automaticamente quindi senza dover digitare i valori a mano e questo capite bene che semplificherà e velocizzerà di parecchio il nostro lavoro quindi cominciamo subito intanto zoomiamo la pagina al 150 per cento perfetto il primo utilizzo del riempimento automatico che vi andrò a mostrare è la copia di valori numeri o lettere che siano quindi a mod esempio ci richiamo qui nella cella a 1 e scriviamo ciao mondo se per qualche motivo abbiamo l'esigenza che questa scritta sia presente anche nelle celle sottostanti non sarà necessario riscriverla manualmente perché perché potremmo farlo usando sfruttando il riempimento automatico in maniera molto semplice ci basterà portare il puntatore del mouse sull'icona di riempimento che sarebbe questo pallino nell'angolo in basso a destra della nostra cella attiva e quando il puntatore diventa una crocetta nera si va a fare clic e tenendo premuto il tasto sinistro si trascina fino a dove vogliamo copiare questa scritta ecco fatto in maniera molto lineare ed elementare abbiamo riempito l'intervallo fino alla cella a 10 con la scritta ciao mondo alla stessa maniera funziona coi numeri quindi se andiamo a mettere qui nella cella b1 il numero uno e poi vogliamo ripetere questo numero che ne so nelle quattro righe sottostanti attiviamo la cella b1 e poi col puntatore sull'icona di riempimento proprio quando il cursore diventa una crocetta nera andiamo a fare clic e la trasciniamo fino a dove vogliamo ed ecco fatto quindi funziona sia con le lettere che con i numeri benissimo il secondo utilizzo di riempimento automatico che vi andrò a mostrare è la creazione di sequenze che possono essere sequenze di date di mesi di giorni della settimana di numeri e comunque in generale di sequenze ordinate che seguono un determinato schema supponiamo la necessità di avere una sequenza da 1 a 10 se non vogliamo scriverla manualmente ma ottenerla automaticamente attraverso i riempimenti ciò che dobbiamo fare è suggerire quindi immettere nel nostro foglio almeno i primi due numeri della sequenza perché se gli diamo solamente uno va a finire come prima cioè che copia solamente il numero 1 all'infinito se invece noi dopo l'uno andiamo a scrivere il 2 e anziché selezionare solo una cella le andiamo a selezionare entrambe così come abbiamo imparato a fare nello scorso tutorial che comunque io vi suggerisco di vedere o rivedere per ripasso infatti ve lo linko fra quelli consigliati dicevo se selezioniamo queste due celle allora google fogli capisce che vogliamo una sequenza di numeri che aumenta man mano di un'unità andiamo a provare subito quindi dopo aver selezionato le celle icona di riempimento quando il cursore si trasforma in questa freccetta nera clic e trascina e voilà questa bellissima funzione di riempimento è in grado di comprendere anche il tipo di sequenza che vogliamo per cui se noi andiamo a digitare per esempio qui il numero 5 e qui il numero 10 poi selezioniamo entrambe le celle e tramite il pallino di riempimento andiamo a trascinare verso il basso allora il sistema comprende che vogliamo la sequenza che aumenta man mano di 5 unità e come vedete ha continuato al posto nostro altro esempio ancora se qui scriviamo 2 e qui scriviamo 5 cosa cosa mi aspetto mi aspetto che continui con una sequenza di numeri che aumenterà man mano di tre unità io mi aspetto che dopo il 5 ci sarà l'otto e poi ci sarà l'undici e poi ci sarà il quattordici e così via dicendo vediamo se è vero quindi dopo aver selezionato entra entrambe le celle pallino di riempimento clic e giù ed ecco fatto come voleva si dimostrare benissimo la stessa cosa avviene con le date e ve lo dimostro subito se io qui per esempio vado a scrivere 25 dicembre 2023 e gli do in passo solamente questa data solo una poi attivo la cella pallino di riempimento e trascino verso il basso vi faccio notare anche che è passato da dicembre 2023 a gennaio 2024 seguendo proprio il calendario a proposito vi faccio un altro esempio supponiamo di volere nel nostro foglio di lavoro delle date con salti di un mese anziché di singoli giorni quindi in qualche modo gli devo dare un input che faccia intendere al sistema che voglio salti di un mese quindi almeno gli devo dare due date quindi vado a scrivere qui 29 dicembre 2022 poi sotto vado a scrivere 29 gennaio 2023 perfetto quindi seleziono queste due celle e il sistema capirà che io voglio salti esattamente di un mese quindi pallino di riempimento trascino verso sotto e voilà mi faccio notare che effettivamente fa salti di un mese ma non solo non essendo il 2023 un anno bisestile non andrà a considerare il 29 febbraio 2023 perché non esiste questo quindi per dimostrarvi che google fogli non fa un semplice riempimento automatico con i paraocchi ma conosce il calendario e considera solo ed esclusivamente date reali altro esempio voglio farvelo con i giorni della settimana se io qui vado a scrivere lunedì ma anche solo le prime tre lettere e poi premo invio la funzione di riempimento capisce che voglio i giorni della settimana e quindi andrà a continuare da solo stessa cosa con i mesi dell'anno se io scrivo qui gen capirà che voglio i mesi dell'anno quindi continuerà da solo la sequenza benissimo ovviamente come potete immaginare non funziona solamente verso il basso ma funziona anche verso tutte le altre direzioni quindi se io scrivo qui gennaio posso andare a trascinare verso destra posso anche andare a trascinare verso sinistra verso sinistra otterrò in questo caso i tre mesi precedenti verso destra ottenuto in questo caso i cinque mesi successivi inoltre vi dimostro che non funziona solamente se partiamo dal primo giorno della settimana oppure dal primo mese dell'anno ma funziona anche se partiamo che ne so da aprile per esempio aprile anzi lo scrivo per esteso stavolta giovedì attivo e trascino perfetto altra cosa il riempimento funziona anche con combinazioni di parole e numeri quindi se io ad esempio scrivo ciao uno e voglio continuare la sequenza pur non dandogli impasto una seconda cella immagina avendo associato il numero uno alla parola ciao il sistema immagina che voglio una sequenza quindi se trascino verso destra andrà a incrementare questo numero è chiaro che poi se voglio sequenze particolari allora dovrò dargli un suggerimento mica può leggermi nel pensiero che ne so vado a dirgli ciao 7 e poi accanto ciao 14 quindi le seleziono entrambe e vado a continuare 7 14 21 28 35 42 49 56 63 quindi ha capito che il ciao successivo lo deve incrementare di volta in volta di 7 unità benissimo prima di chiudere vi do una chicca ovvero come ottenere un riempimento attraverso il doppio clic per fare questo ho bisogno di un foglio di calcolo che ho salvato nel mio pc ma in questa maniera ne approfitto anche per indicarvi come aprire i file che sono contenuti nell'eserciziario che ho preparato a corredo di questo corso che vi ricordo potete richiedere attraverso il modulo contatti del mio sito che trovate linkato in descrizione dunque siccome molti mi avete detto come facciamo ad aprire i file e lavorare quindi esercitarci su questi file che ci hai fornito molto semplice basta aprire il menu file poi cliccare su apri oppure usare la combinazione tasti control più o poi da questa finestra di dialogo andare a cliccare su carica poi andare a fare clic sul pulsante sfoglia per cercare il file tra le le vostre cartelle e una volta individuato andarlo a selezionare con un clic dopo di che si va a fare un clic su apri aspettiamo che viene venga caricato benissimo dunque supponiamo di avere questi dati quindi nella colonna a e b abbiamo i nomi e cognomi di alcuni candidati nelle colonne c d ed e abbiamo i punteggi ottenuti in tre diverse prove nella colonna f vogliamo per ogni candidato calcolare il totale ovvero la somma dei punteggi delle tre prove che ha sostenuto ok è una cosa molto banale è una cosa che sappiamo già fare e che abbiamo già fatto nel secondo tutorial di questo corso di cui in questo momento dovrebbe apparire il link consigliato comunque lo lascerò pure in descrizione dunque ci posizioniamo nella cella f2 e andiamo a scrivere semplicemente la formula della somma quindi uguale poi vabbè qua addirittura ci suggerisce quello che dobbiamo fare quindi c2 più d2 più e2 dopo aver premuto invio abbiamo qui la somma di c2 più d2 più e2 a questo punto e sta qui la chicca della giornata andiamo a selezionare la cella con il risultato e dopo di che anziché fare clic e trascinare andiamo a fare un doppio clic sul pallino di riempimento guardate un po cosa succede e voilà cosa è successo la funzione di riempimento automatico capisce lo schema e fa tutto automaticamente fa il calcolo pure per le righe sottostanti ed ecco quindi che torno all'incipit di questo tutorial ovvero a come questi riempimenti semplifichino e di molto il nostro lavoro all'interno dei fogli di calcolo quindi in questo caso scrivendo solo una volta la formula e poi facendo un doppio clic sul pallino di riempimento Google Fogli ha capito che doveva completare il calcolo per le righe successive e si è fermato quando non c'erano più dati ovvero alla riga 20 ora immaginate quanto questa funzione di riempimento automatico possa essere d'aiuto in fogli con centinaia e centinaia di righe lasciatemi dire che è davvero molto efficace e potente detto questo conclude il tutorial nella speranza che sia stato chiaro e soprattutto utile in tal caso vi invito a lasciare un like un commento e perché no a condividerlo con amici e colleghi che potrebbero trarne vantaggio infine vi invito ad iscrivervi al canale attivando anche la campana delle notifiche così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi caricamenti grazie per avermi seguito e alla prossima ciao